Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo alla vicenda Porto di Gela. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle attacca l'amministrazione ed in particolar modo il vice sindaco Simone Siciliano. All'ultima riunione a Palermo, dicono i grillini, abbiamo assistito al teatrino imbarazzante dell'esponente della giunta messinese che dichiara di avere già autorizzato il progetto per conto del comune e che si sta procedendo con tutto l'impegno del caso e che con altrettanto impegno incontreranno l'Eni e la regione. Sentiamo. Una politica che non ha saputo garantire uno sviluppo economico diversificato ed equo per tutti, sempre e solo legata all'incerto sviluppo del comparto petrolifero. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Gela non ci sta e dice la sua in merito alla vicenda Porto contestando anche una digrazione del vice sindaco Simone Siciliano. La democrazia partecipata va bene, ma fino ad un certo punto. La conferenza del 9 maggio scorso ha fatto registrare un'assenza importante. L'Eni, che a quel tavolo avrebbe dovuto dare un impegno certo circa alla copertura finanziaria dell'intero progetto per un ammontare di circa 5 milioni di euro. C'erano tutti, tranne il maggiore interessato, dicono I Grellini, quello che avrebbe dovuto assicurare la copertura finanziaria, senza la quale, come era già emerso nella conferenza dei servizi del 24 febbraio scorso, il progetto non può passare alla fase esecutiva. Abbiamo dovuto assistere, affermano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, al teatrino imbarazzante del vice sindaco che dichiara di aver già autorizzato il progetto per conto del Comune e che si sta procedendo con tutto l'impegno del caso e che con altrettanto impegno incontreranno l'Eni e la Regione per sottoscrivere l'ennesimo accordo relativo al porto. In realtà, il progetto di cui parla il vice sindaco, affermano i consiglieri Grellini, non è ancora completo nella sua fase esecutiva. Di conseguenza, lo stesso non è stato formalmente autorizzato da alcun ente preposto perché mai presentato ufficialmente. Il Comune, una volta ricevuto il progetto esecutivo, se dovrà esprimere un parere, lo farà in seguito ad una regolare istruttoria o conferenza dei servizi. Sono trascorsi inutilmente due mesi e mezzo, non tenendo conto sia del comparto pesca, oramai alla fame, sia dei requisiti minimi di sicurezza che la Capitaneria di Porto dovrebbe garantire in caso di incidenti negli impianti offshore della stessa Eni. Il Movimento 5 Stelle, se da una parte, plaude al lavoro tempestivo della protezione civile di Palermo e quindi all'interessamento del direttore Foti e del tecnico Calafato, dall'altro critica la situazione di stallo in cui si trova il progetto dopo quasi otto mesi di incontri e collaborazioni anche con le associazioni del territorio. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il deputato Giancarlo Cancelleri, ha proposto di avviare immediatamente e senza ulteriori ritardi quegli interventi del progetto che possano consentire ai pescatori di lavorare. Qui il problema non è andare in sommorgenza, dicono. La realtà delle cose è che mentre si discute di mese in mese un intero comparto di lavoratori e famiglie legato al porto sta morendo. Serve un intervento chirurgico in attesa che l'amministrazione ci dia contezza circa la copertura economica del progetto, ancora preliminare, che non mortifichi l'impegno dei soggetti coinvolti sul territorio negli ultimi mesi e non crei altro sperpero di denaro pubblico. Il Vice Sindaco Simone Siciliano, in una nota, sottolinea che dopo aver letto la ricostruzione dei grillini sul progetto del porto rifugio, mi è chiara, si legge, la frenesia che hanno nella richiesta di accesso agli atti. Pur avendo partecipato infatti all'ultima conferenza di servizi alla protezione civile, sembra quasi che durante la riunione siano caduti in trans e così adesso è consigliabile che legano i verbali ufficiali per evitare di fare terrorismo gratuito. In quell'occasione si legge ancora e apparsa evidente la loro incapacità di una dialettica degna di potersi riferire al ruolo politico che rivestono segnale della profonda irresponsabilità che si cela dietro i loro comportamenti. Che si informino sugli itere procedurali prima di sentenziare, dice Siciliano, abbiamo concesso il parere di conformità del progetto al piano regolatore generale del porto e a breve saremo convocati dalla regione assieme a Eni per firmare l'accordo che destina 5,8 milioni di euro dai fondi di compensazione all'avvio della fase operativa. Per la prima volta nella storia di Gela, dichiara ancora Siciliano, si parla di ridare dignità e funzionalità ad un porto sempre bistrattato e mai considerato fonte di ricchezza con un progetto che prevede interventi in grado di risolvere gli annosi problemi di insabbiamento continuo. Ribadisco, sottolinea ancora il Vice Sindaco, che la democrazia partecipata va bene, ma fino a quando gli interlocutori sono in grado di accettare che la partecipazione allargata comporta un allungamento utile e dei tempi di concertazione e di definizione dei processi decisionali. Contro le criticità ambientali del territorio urbano ed extraurbano gelese nasce uno coordinamento intercomunale e quanto concordato in sinergia tra gli assessorati all'ambiente e ai lavori pubblici del Comune di Gela, retti rispettivamente da Simone Siciliano e Flavio Di Francesco. Gli interventi di pulizia e decoro urbano saranno realizzati assieme dalla partecipata Geras Multiservizi e dalla Tecra, l'azienda che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In questo modo, dice Siciliano, offriremo ai cittadini dei servizi onnicomprensivi in passato circoscritti da limitazioni di competenza. Nel progetto sono stati coinvolti la Polizia Municipale e il settore patrimonio del Comune di Gela, quest'ultimo chiamato a tracciare e a rendere pubblica una mappatura delle zone di competenza comunale in modo da individuare le incombenze che spettano i privati sempre in materia di ecologia urbana. Questo permetterà interventi più efficaci e più efficienti con un risparmio per le casse comunali. Abbiamo già avviato un organico programma di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e per la pulizia del centro abitato, ha annunciato l'assessore Di Francesco. Le operazioni seguiranno una scaletta di priorità già individuate per tutti i quartieri di Gela a totale copertura del territorio per ridare dignità e vivibilità alla città. Grande attenzione è rivolta anche ai confini territoriali di Gela. Un servizio specifico si occuperà della repressione e dell'abbandono di rifiuti causa della presenza di discariche abusive formate in maniera esponenziale a causa dell'estensione del territorio a ridosso con i comuni viciniori causando l'incremento del costo del servizio per un fenomeno illegale senza freni e di cui il contribuente geolese non può addossarsi anche questioneri. A tutela delle zone extraurbane opereranno inoltre le guardie ecologiche di prossima istituzione. Cambiamo argomento. Sono stati evitati i 27 licenziamenti annunciati dalla Sud Elettra. Le sigle sindacali CGL Cisle Will assieme alle categorie dei metalmeccanici dopo mesi di trattative hanno raggiunto un accordo che evita ulteriori tensioni sociali a Gela città già provata dalla crisi non solo industriale. Il sindacato dei lavoratori esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto dalla Prefettura di Caltanissetta nel mediare le posizioni. L'ENI ha assicurato il monitoraggio dei diritti dei lavoratori dell'indotto così come richiesto dalle sigle sindacali ed espressamente contenute nel protocollo di legalità. La pagina della cronaca giudiziaria c'è anche un'ottantenne di Gela tra le persone indagate dai carabinieri di Termini Merese che nelle ultime ore come vediamo dalle immagini hanno sgominato una banda specializzata in traffico di reperti archeologici nell'ambito dell'operazione denominata Imera. Due le persone arrestate 22 quelle denunciate recuperate lo vediamo ancora dalle immagini centinaia di reperti di epoca greca e romana. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Termini Merese ed ha permesso di smantellare una organizzazione specializzata nel traffico di reperti provenienti da scavi clandestini in vari siti siciliani. Una volta trafugati anfore e armi crateri e monete sarebbero stati immessi sul mercato clandestino. I beni recuperati saranno esposti ora nei musei siciliani. Ed una truffa online è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Vediamo. Proseguono le truffe online. Da alcune settimane infatti circola un'e-mail che chiede agli ignali destinatari informazioni sulla loro situazione contabile per sanare un'evasione nel giro di 48 ore dalla ricezione della comunicazione. Un'e-mail inviata dall'indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it chiocciolaminister.com che è solo apparentemente riconducibile alla Guardia di Finanza. A lanciare l'allarme sulla nuova frode telematica sono le stesse fiamme gialle che invitano a non aprire l'e-mail a cestinarla e a segnalare l'accaduto al 117. Confermo che si tratta di una truffa perché l'indirizzo da cui provengono queste richieste è un indirizzo che non appartiene alla Guardia di Finanza del resto la Guardia di Finanza comunica solo attraverso posta certificata. Cosa si chiede con questa e-mail che è una tipica tecnica di phishing? Si chiede tutta una serie di documentazioni contabili tra l'altro da inviare entro 48 ore assolutamente non bisogna inviare alcunché bisogna cancellare l'e-mail senza aprirla e se nel malagurata ipotesi in cui qualcuno invece abbia aderito a questo invito deve tempestivamente comunicarlo o al più vicino comando della Guardia di Finanza o utilizzando il numero 117 noi comunichiamo o attraverso delle lettere scritte mandate di solitamente con delle pattuglie quindi ricapitate a mano se no con raccomandato con ricevuto di ritorno ma laddove si utilizzi la posta elettronica viene esclusivamente utilizzata la posta elettronica certificata indire un incontro col presidente del consiglio comunale di Gela al fine di prendere immediati contatti con i rispettivi presidenti dei consigli delle comunità interessate da quello che viene definito uno scempio e con tutti i capigruppo consigliari tutto ciò al fine di ridare quella centralità che proprio la legge 15 del 2015 ha voluto attribuire ai consigli comunali e alle comunità e quanto chiede il comitato Gelensis Populus in merito alla vicenda dei liberi consorsi e delle città metropolitane dopo che tra modifiche ed aggiustamenti vari la riforma si è confermata totalmente alla legge nazionale del Rio all'incontro che sarà fissato entro la prossima settimana Gelensis porterà un elenco di punti programmatici funzionali per tentare di recuperare il veto della commissione parlamentare ma se questo non fosse possibile si studieranno delle strade alternative contro la regione e la sua riforma di consorsi obbligatori disegnati su regole di ispirazione borbonica Gelensis inoltre attacca il sindaco di Catania Enzo Bianco reo di non avere preso alcuna posizione né in termini ufficiali né in termini politici per favorire o interessarsi alla vicenda all'indomani della bocciatura in prima commissione all'assemblea regionale siciliana costituita per gran parte da componenti del partito democratico Gelensis continua anche a biasimare il comportamento del sindaco Domenico Messinese il quale si legge tenta di prendere accordi sulla vicenda del passaggio di Gela alla città metropolitana a porte chiuse con un gruppetto di poche persone dimenticando o facendo finta di dimenticare che la battaglia appartiene alla città noi dice il comitato non abbiamo paura del confronto democratico cambiamo decisamente argomento con le nostre telecamere abbiamo seguito la cerimonia di premiazione del concorso fotografico le dune gelesi sono Duilio Larocca del liceo classico Eschilo Sefora Cassarino del liceo delle scienze umane Dante Lighieri e Aurora Talalita dell'istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo i vincitori del concorso fotografico le dune gelesi promosso dal Soloptimist Club di Gela agli studenti vanno rispettivamente 200 150 e 100 euro all'iniziativa hanno partecipato anche il liceo scientifico Elio Vittorini e l'istituto Ettore Majorana ieri cerimonia di premiazione nell'aula magna della scuola Luigi Capuana Noi abbiamo riscontrato nelle scuole nei ragazzi che sono stati numerosi nell'intervenire un interesse che veramente ci ha colpito e ci ha fatto molto piagere perché noi miravamo proprio a questo miravamo proprio e il concorso aveva questo scopo quello proprio di valorizzare l'ambiente e di far conoscere le dune le dune gelesi che sono un patrimonio un patrimonio del nostro territorio quindi questa cosa ci ha portato ci ha veramente portato a migliorare e a a creare e a fare questo concorso il dirigente scolastico Cetta Mongelli la nostra mission da anni è conoscere per valorizzare la scuola per il territorio e quindi aprirsi Gela archeologica storica ma anche ambientalista anche paesaggistica quindi il concorso le dune gelesi per noi era proprio assolutamente inerente al nostro poff e quindi quando il store optimist club di Gela preseduto da Maria Grazia Falconeri di cui peraltro mi onoro di far parte mi ha chiesto la location per noi tutta la scuola e tutto il personale e i docenti è stata cosa graditissima anzi siamo onorati di ospitarlo all'iniziativa di ieri tra gli altri era presente anche Francesco Vacirca presidente dell'associazione Leopoldia agricoltura biodiversità e rigenerazione del territorio le dune sono valorizzate e questo tipo di attività di oggi è un qualcosa in più che dà ancora più visibilità alle dune e alla salvaguardia della Leopoldia da un punto di vista agricolo noi stiamo operando abbiamo già costituito un'associazione di produttori abbiamo realizzato un marchio che si chiama proprio Leopoldia che ha la finalità di salvaguardare questa specie rara che si sviluppa solo nel nostro territorio ma nello stesso tempo di valorizzare le produzioni agricole che vengono prodotte in questi ambiti in queste zone sensibili al fine di dare un di più ai produttori agricoli che ovviamente saranno sottoposti a un disciplinare e a un regolamento di produzione specifico sostenibile a basso impatto ambientale il Lions Club di Gela presieduto dall'avvocato Antonio Cagliano celebra la 54esima charter e raggiunge un accordo di gemellaggio con i club di Termini Imerese Ost e Termini Imerese Cerere l'iniziativa si svolta nei locali di Villa Peretti a Gela presenti numerose autorità rappresentanti di club service e tanti ospiti durante l'iniziativa è stato celebrato anche l'ingresso di nuovi soci si tratta di Angelo Fasulo Antonio Federico Emanuele Maganucco Valentina Melfa e Angelo Turco Nello suo intervento l'avvocato Cagliano ha evidenziato che tanto tempo è passato da quando 16 persone unite nel senso vivo dell'amicizia rappresentanti di tutte le categorie hanno deciso di dare vita al Lions Club di Gela e subito dopo si è visto un susseguirsi di tanti presidenti che con impegno e spirito di servizio hanno contribuito promuovendo lo spirito leonistico e portato a compimento innumerevoli service con tante iniziative sul sociale e sul territorio ed il sostegno ai programmi di solidarietà per la prevenzione della cecità e di altre patologie il presidente ha poi sottolineato l'importanza di perseguire nello spirito leonistico dando risalto sia al service distrittuale Sicilia Isola Frammito in realtà che a quello nazionale incentrato su Expo 2015 consegnando allo stand Piazzetta Sicilia un video prodotto dalla Proloco sulle eccellenze storiche pesaggistiche oltre che culinarie personificate da Archestrato da Gela e inoltre in corso il progetto Martina è volto a sensibilizzare i più giovani ad uno stile di vita più sano atto a prevenire le patologie tumorali prima di dare la regia vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Agorà torna il rotocalco settimanale della nostra redazione puntuale come sempre che si occuperà della tematica che più di altre ha tenuto banco in questi giorni a Gela ossia la nuova viabilità urbana entrata in vigore in settimana e che ha creato non pochi disagi e polemiche per la verità più le seconde nel senso che come al solito ogni novità proposta in questa città prima ancora che produca effetti sia essi positivi o negativi scatena un vespaio di polemiche alcune anche feroci ne parleremo in studio grazie ad una nuova puntata di Agorà che assieme al conduttore e ideatore Franco Gallo sarà ricca di ospiti e spunti di discussione vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21 con Agorà su Canale 10 dunque prendiamo un appuntamento seguendo il nuovo rotocalco della nostra emittente ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità rieccoci seconda parte del telegiornale promosso dall'ordine dei geologi di Sicilia guidato dal gelese Giuseppe Collura oggi e domani a Butera si svolge il seminario dal titolo borghi e paesaggi risesti e valorizzazione il geosito di Monte San Nicola saranno presenti numerosi relatori è prevista anche una escursione guidata al Monte San Nicola e a Borgo Pozzillo e adesso spazio alla presentazione del libro di Vera Ambra sul tenente bersagliere mitragliere gelese Salvatore Damaggio protagonista indiscusso della Grande Guerra un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente bersagliere mitragliere gelese protagonista indiscusso della Grande Guerra e piume baciatemi la guancia ardente l'ho scritto Vera Ambra il libro ottenuto il libro ottenuto il logo ufficiale per il centenario della prima guerra mondiale concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche il patrocinio morale della situazione nazionale del Fante attraversare quel periodo non è stato per nulla facile ma soprattutto perché si trattava di ragazzetti ragazzetti strappati alle famiglie buttati in posti impensabili invivibili e Salvatore ha sviluppato la sua azione eroica in un posto difficilissimo il più difficile di tutto il fronte della guerra a 2200 metri di altezza sul dente italiano ha difeso il dente italiano e da solo con 7 soldati è riuscito a fermare l'avanzata del più grande esercito del mondo organizzato e nei tre giorni che precedettero la battaglia morirono 3360 soldati italiani la presentazione del libro si è svolta nei locali del museo archeologico regionale di Gela i lavori sono stati coordinati dalla giornalista Fabiola Polara alla presenza delle autorità cittadine e dei presidenti delle associazioni Rotary Club Fida Palla Eons Club del Golfo Chivanis Proloco Archeoclub e Lega Navale è una storia che non è semplicemente la storia di un soldato è la storia di un uomo che è un medico è anche un soldato ed è combattuto fra queste due diciamo queste due alternative volendo quasi esclusive nel senso che il soldato toglie la vita il medico le salva quindi è anche un po' combattuto da questo punto di vista E rappresentare invece un eroe attraverso dei disegni che esperienza è stata? Attraverso dei disegni esprimere spero le mie potenzialità e anche io mi sono immerso nella storia perché ho dovuto fare prima di tutto una ricerca anche di immagini quindi immagini crude immagini storiche e ovviamente ti immedesimi nel personaggio L'accoglienza è stata curata dai docenti e dagli studenti dell'istituto alberghiero retto da Grazio di Bartolo Il museo racconta delle storie racconta delle storie antiche ma questa è l'occasione per una storia un po' più moderna esiterà domani alle 18.30 nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela la presentazione del libro di Silvia Scolla al Valico dell'Orizzonte l'iniziativa è stata promossa dall'Unitre preseduta da Angela Scaglione sabato 21 maggio invece alle 18.30 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi a Gela sarà presente Simona Loiacono finalista del premio strega 2016 presenterà le streghe di Lenza Vacche e continuano le iniziative inserite nel calendario la primavera dell'arte giunta alla quarta edizione promosse dal gruppo archeologico d'Italia Gelo e Trischelion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio oggi alle 19 nei locali del museo è prevista una mostra archeologica con reperti inediti sabato 21 maggio invece alle 21 alle mura a Timoleontè chiusura con la notte europea dei musei le mura di notte rivedere le posizioni organizzative e contenere il salario di accessorio riconosciuto alle stesse in modo da ridurre la spesa e permettere così il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta oltre a garantire la possibilità di proseguire la loro attività anche ai lavoratori della società in house Caltanissetta Service questa la proposta del segretario generale della funzione pubblica Gianfranco Di Maria a seguito della grave situazione finanziaria che l'ex provincia sta affrontando e ha presa la notizia nel corso dell'assemblea con gli assessori regionali Luisa Lanteri e Gianluca Miciche alla presenza di tre esponenti del Parlamento siciliano Giancarlo Cancelleri Pino Federico e Giuseppe Arancio del congelamento da parte del Governo nazionale dei 500 milioni di euro che ha così deciso ancora una volta di tornare a bussare alle porte dell'ente per chiedere un incontro urgente con il commissario straordinario le nostre richieste sono intanto di cercare di fare lavorare tutti i dipendenti della provincia in questo io inserisco pure la partecipata Caltanissetta Service che sono dei colleghi quindi sono dei lavoratori come noi abbiamo fatto la proposta prima di congelare di diminuire quelle che sono le posizioni organizzative che sono un salario accessorio per alcuni dipendenti di notevole entità e non mi pare giusto in un momento di crisi come questo di crisi sia economica che lavorativa che ci siano persone che abbiano delle indennità prima assicuriamo a tutti lo stipendio poi forse queste indennità potrebbero servire anche a fare lavorare i lavoratori della Caltanissetta Service in un progetto che in questo momento per me è di salva vita spiego meglio sulle nostre strade proprio perché quasi abbandonate visto la mancanza economica di risorse l'erba è altissima e se facciamo caso in una curva se dovessimo come abbiamo fatto in passato tagliare l'erba noi assicureremmo allargheremmo la visuale dell'autista e potremmo addirittura evitare uno scondro frontale questo chiediamo alla commissaria ma poi chiediamo pure di non fare come fa il governatore di non sentire le parti sociali noi siamo le parti sociali siamo il sindacato noi rappresentiamo ancora i lavoratori oggi è prevista domani alle 11 presso l'aula magna dell'istituto comprensivo statale Salvatore Quasimodo di Gela diretto da Maurizio Tedesco lo Scratch Day un evento organizzato in collaborazione con l'associazione Ship Lab nell'ambito delle iniziative promosse dall'istituto per la diffusione del pensiero computazionale siamo alla pagina dello spettacolo appuntamento col teatro all'antitodo di Macchitella a Gela sabato 21 maggio alle 21 sarà proposto attenti a quei due con Emanuele Giammusso Guilamo Greco e Lori Ardore vi ricordiamo che le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre abbiamo concluso anche per oggi vi ricordiamo che potete seguirci anche in streaming all'indirizzo tg10.it grazie e arrivederci grazie a tutti Grazie.